Come avete sentito nei titoli, Roma ha prima capitale europea servita dalla banda larga. Già avviati i lavori nel quartiere Prati, quasi nullo il disagio per i residenti. Stefano Orsini. 600 milioni di euro di investimento per trasformare la capitale in città digitale. E' questo il progetto presentato dall'Unione Industriale Romani che prevede entro 5 anni l'arrivo capillare della banda larga in case, uffici ed imprese, potenziando così di 5 volte la possibilità di inviare dati. Significa avere un'autostrada a 16 corsie invece di una provinciale. Il futuro è nella capacità di collegare il sistema dei cittadini e il sistema delle imprese con le istituzioni, con la pubblica amministrazione. Avere un'autostrada su cui far correre tanti veicoli di modernità. I lavori sono iniziati già in via sperimentare nel quartiere Prati. I cavi in fibra ottica, oltre a portare nuovi posti di lavoro, mirano a velocizzare la comunicazione tramite internet o telefonia e a dare nuove opportunità come la telemedicina per i pazienti che non possono muoversi, la telesorveglianza e la possibilità di scaricare documenti con tanto di bolli. Roma sarà la prima città europea a essere interamente accablata con le fibre ottiche di ultima generazione. E questo è veramente un primato di cui siamo molto orgogliosi. La novità maggiore sarà il bassissimo impatto degli scavi. Una delibera del comune permette di velocizzare al massimo i tempi per far partire i lavori che prevedono la realizzazione di piccole tracce su marciapiede o in strada aperte e richiuse in pochissimo tempo, con la riduzione dei costi di un terzo e un minore impatto sul traffico. Sono lavori molto più veloci che spesso vengono effettuati sui marciapiedi e comportano uno scavo di pochissimi centimetri. E c'è la possibilità anche di non scavare utilizzando le trincee, già si senti magari di altri operatori di telefonia mobile o altri operatori di cavi stradali.